Sshh Mangi Perché non fai qualcosa? Non vuoi dire? Non lo so Non vuoi dire perché non fai qualcosa? Non lo so, non c'è nient'altro che vorresti fare qualcosa di diverso Cos'è il tipo? Non so, sei bravo in così tante cose Potresti fare tutto ciò che vuoi Non c'è qualcosa di nuovo che vorresti provare Che cosa a parte essere tuo marito e il padre di Franchi? Sentiamo nei tuoi sogni dove io faccio qualcosa di buono Che cosa faccio? Non lo so, hai tante capacità, le potresti sfruttare Perché? Perché sai cantare, sai ballare, puoi dipingere Non ho mai voluto essere il marito di qualcuno o il padre di un bambino Non era il mio scopo Magari lo era per altri ma non era il mio Ma poi ho trovato quello che volevo e E' questo quello che voglio, non voglio nient'altro E' il lavoro per poterlo fare Mi piace che vai al lavoro, non mi piace vederti bareggiato al mattino Ho un lavoro che mi permette di bere alle 8 del mattino E' un lusso Ma cazzo mi sveglio la mattina, mi bevo una birra e mi bianco una casa Torno, sto con te, con Franchi Più di questo Non ti senti mai deluso Ma perché deluso? Per via del tuo potenziale Ma faccio quello che voglio fare, perché devo fare soldi con il mio potenziale? Non ho detto che devi fare soldi con il tuo potenziale Ma che cazzo significa potenziale? Che vuol dire potenziale? Potenziale di che cosa? Trasformarsi in che cosa? Che cazzo devo fare eh? Raramente riusciamo a parlare ad adulti e sai perché? Perché ogni volta che lo facciamo tu prendi le mie parole e le trasformi Le stravolgi in qualcosa che non avevo intenzione di dire Tu le stravolgi, blateri, blateri, bla 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 Vabbè, senti se non vuoi sentire quello che ho da dire è meglio questo zitto eh E' ridere eh? Divertente Sì Per una volta mi piacerebbe che tu pensassi a ciò che vuoi dire Piuttosto di dire tutto ciò che pensi Provaci Magari ci riesci Che è? Vuoi luttare con me? Sì Vuoi luttare con me? Vuoi luttare con me? Vuoi luttare con me Evet 후